Ciao a tutti, io lo chef Andrea Di Giglio lo seguo ancora prima di Natale e finalmente mi sono decisa a seguire una sua diretta e gli ho fatto subito una domanda sulla pasta frolla che mi era venuta un flop e lui mi ha detto mandami gli ingredienti di come l'hai fatta che risolviamo il problema non essendo opera sua la ricetta, ecco qui mi ha conquistato perché denota una grande professionalità e una grande voglia di far imparare veramente le persone ad avvicinarsi alla pasticceria non facendo la ricetta automaticamente ma capendo il procedimento e la tecnica dell'iter, della ricetta perché un conto è farla automaticamente con gli ingredienti e un conto è come dice lui che bisogna imparare la tecnica, i bilanciamenti per essere più autonomi nel far la ricetta infatti sono entusiasta dei suoi corsi che ne ho acquistati due la pasticceria da forno e la pasticceria da forno e la pasticceria torte moderne perché lui con un linguaggio semplice ci vuole avvicinare alla praticità e alla semplicità e i corsi sono rivolti a tutti a me che sono amatoriale e che sono una grande appassionata di pasticceria ma devo ancora formarmi ma sono anche dedicati ai professionisti perché io sono convinta che i professionisti con la grande esperienza dello chef Andrea Di Giglio possano approfondire la loro conoscenza già acquisita ho notato che lo chef punta tantissimo sulla praticità e sulla semplicità con la sua grande esperienza e professionalità la cosa più bella è che i corsi sono guidati da lui cioè non è che ti vende il corso finita lì no tutti i suoi corsi sono studiati e sono guidati personalmente da lui io ho notato che ho fatto una cheesecake sotto nei commenti puoi fargli qualsiasi domanda che lui ti risponde in tempo breve ed è l'unico corso che io trovo che non ti abbandona e quindi lasciatemi consentitemi il termine è tanta roba perché è un corso venduto con amore dallo chef Andrea Di Giglio seguito personalmente da lui in qualsiasi qualsiasi domanda o qualsiasi dubbio o qualsiasi perplessità come dicono i miei nipotini è tanta roba e poi ogni lunedì dalle 20 alle 21 c'è una diretta sempre con l'unico corso ho il fiore all'occhiello di questi corsi oltre al grandissimo chef è l'assistenza è l'assistenza che ti segue a 360 gradi la mitica fiorella che ti accoglie e ti dissolve ogni dubbio ogni perplessità ti viene incontro nei problemi è un valore aggiunto in più perché è è